Grande vittoria del Fiorenzuola del rientrato Tabbiani da ormai qualche giornata, vittoria che accorcia la classifica in ottica play-out in questo girone A di Serie C, ora Fiorenzuola a pari punti in realtà con il Novara a quota 22, al terzo ultimo posto Trento quinto ultimo a 27 ed è una classifica in questo senso che viene accorciata con una vittoria esterna importante per un Fiorenzuola che tra l'altro ospiterà settimana prossima la Provercelli, Trento che d'altro canto perde una partita importante, una partita anche decisiva per il prosieguo perché mancano ancora diverse giornate però questi sono già scontri di un certo conto anche per un tecnico come Moll che è anche subentrato a Mister Tedino, Trento che vi ricordo settimana prossima andrà a Padova quindi trasferta complicatissima Allora partita sicuramente decisa indirizzata dall'episodio dell'espulsione di Italeng che ha cambiato ovviamente diciamo il modo di stare in campo in particolare del Trento Due squadre che propongono un modulo abbastanza diverso, questo Fiorenzuola con il 4-3-3 e il Trento con questo 3-4-1-2 fondamentalmente con due punte abbastanza fisiche su cui la squadra si appoggia soprattutto su Italeng e con Anastasia che è chiamato a svariare sul fronte offensivo, a posizionarsi alle spalle dei centrocampisti e trovare lì la palla tra le linee lui che poi spesso tende ad allargarsi anche a sinistra perché nasce come esterno sinistro e comunque squadra che poi in non possesso si incompattava bene devo dire quando doveva difendere tra virgolette basso perché andava a pressare abbastanza forte il portatore quando il Fiorenzuola nei primi minuti ha provato a giocare dal basso che è una caratteristica se vogliamo anche delle squadre di Tabbiani però questo Fiorenzuola ha dimostrato un po' di limiti se vogliamo tecnici almeno nella prima costruzione il Trento andava a prenderlo abbastanza alto però poi di grandi paloni non li ha recuperati ecco Fiorenzuola che poi diciamo a sua volta è molto aggressivo praticamente tutte le zone di campo gli avversari vengono agriditi a uomo e con buona intensità quindi è nascita fuori una partita con buoni ritmi dove comunque il Trento poteva sfruttare meglio ecco anche i cambi gioco perché effettivamente quando veniva cambiato gioco sull'esterno si creavano degli spazi importanti e potenziari uno contro uno anche perché poi per il Fiorenzuola non era facile scivolare con i difensori o comunque far rientrare in tempo gli esterni offensivi detto questo il Fiorenzuola che al contempo come detto prova a giocare la palla costruendo dei buoni sviluppi magari sulle catene sulla sinistra dove ha spinto molto di più Maffei nel primo tempo quindi sovrapposizioni interne o esterne nel secondo invece ha spinto molto di più Sussi dall'altra parte devo dire mi è piaciuto molto ma di questo parleremo poi quindi Fiorenzuola che sfrutta queste soluzioni così come anche il lavoro di Ceravolo che viene spesso a giocare spalla alla porta e che fa un grande lavoro a servizio della squadra come detto per i minuti giocati a buoni ritmi in cui comunque il Fiorenzuola cerca fin da subito di impostare il gioco da dietro con il tempo meglio sicuramente il Fiorenzuola che esce bene alla distanza che mette in difficoltà anche il Trento con questi palloni alle spalle perché in qualche situazione di palla scoperta il Trento non scappava con la linea difensiva ma restava abbastanza alto e questo poteva permettere agli attaccanti del Fiorenzuola di attaccare la profondità e infatti su qualche pallone alle spalle della difesa in questa fase il Fiorenzuola ha trovato delle buone soluzioni producendo anche diversi angoli grazie tra l'altro anche al lavoro di Mora Mora che ha grandi qualità tecniche oltre all'esperienza giocatore che verticalizza spesso, palle dirette comunque scambi, è un giocatore molto importante e un Trento che ripeto in questa fase si abbassa proprio per questo motivo comunque lascia abbastanza libera la prima costruzione del Fiorenzuola che poi è un'occasione importante proprio su angolo con Di Gesù al 32esimo finale invece in cui il Trento in due o tre occasioni è ripartito poteva fare meglio, poteva sfruttare meglio queste ripartenze però tutto sommato poche occasioni clamorose e poi come detto l'ingenuità che cambia la partita al 46esimo Italeng prende la palla con la mano in maniera inspiegabile e si fa espellere per doppia munizione il Trento è così costretto a passare a questo 4-4-1 che devo dire per 10-15 minuti ha coperto molto bene il campo forse è meglio il Trento così che nel primo tempo perché questo 4-4-1 permetteva di coprire meglio il campo di concedere pochi spazi ad un Fiorenzuola che era lento, abbastanza prevedibile che faticava a trovare gli attaccanti in questo modo sicuramente meglio a destra come detto Sussi più propositivo nel secondo tempo e poi comunque bravo sempre a provare a condurre la gara seppur ripeto nei primi minuti del secondo tempo molto più attivo il Trento molto più presente in partita nonostante l'uomo in meno però a sbloccarla è proprio il Fiorenzuola al 65esimo su questa azione sviluppata sulla sinistra rispinta dalla difesa e poi di Gesù che è da fuori con una deviazione segna da ricordare che però c'era un'uomo a terra del Trento ma giustamente poi la squadra ospita ha continuato l'azione ed è arrivata a fare gol un Fiorenzuola che in questa fase già nei primi 4-5 minuti precedenti stava dominando e alzando il baricentro con un Trento che ha fatto sempre più fatica qualche lancio lungo ma senza successo nel finale la squadra di casa ci ha provato in tutti i modi però Fiorenzuola che ha lottato ha messo dentro gente fresca come Anelli ha messo dentro Alberti che ha grandi doti di tenere palla tanto che infatti la squadra l'ha cercato spesso e volentieri però devo dire che il Trento non ha mollato ha avuto un'occasione con Anastasia molto importante e comunque ci ha provato fino alla fine anche su qualche calcio piazzato che poteva sfruttare meglio perché sul secondo palo secondo me il Fiorenzuola marcando anche a zona ha lasciato spesso degli spazi che potevano essere sfruttati molto meglio e poi al 94esimo arriva questo gol che chiude la partita con un'ottima azione nata da Sussi che parte in progressione si sviluppa ancora sulla sinistra e viene chiuso da Sec lamenta giustamente il Trento per una palla che precedentemente era uscita perché in effetti colui che poi ha fornito l'assist a Sec in un modo o nell'altro ecco la palla in quel caso sembrava uscita però ovviamente qui siamo in serie C quindi non ci sono modi per poter provare il contrario se non qualche ripresa televisiva post quello che è successo occasioni pericolose vi ricordo una 3 per quanto riguarda le formazioni Trento con Russo in porta Barison, Ferrio, Baretine e Frosini in difesa Di Cosmo, Sangagli e Giannotte a centrocampo con Anastasia e Spalluto e Italeng davanti mentre il Fiorenzuola ha schierato Sorsi in porta Maffei, Cremonesi, Potope, Sussi in difesa Oneto, Mora e Di Gesù con Morello, Ceravolo ed Amico davanti molto bene Cremonesi che nell'uno contro uno nell'aggressività sull'uomo ha lavorato secondo me molto bene anche di esperienza e mi è piaciuto molto Sussi perché è un giocatore di gamba che sa anche spingere ma sa fare bene anche le diagonali difensive ed è molto attento male vi dico invece Giannotte che non mi è piaciuto troppi errori tecnici e poteva fare di più e anche Italeng che qualche parola lo ha anche tenuto nel primo tempo spara la porta però un'ingenuità che non si può commettere ha poi indirizzato la gara in un certo modo io a questo punto mi fermo vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi